Vale la pena investire nei giochi di carte collezionabili? I prezzi di questo o quell'altro prodotto saliranno in futuro? E converrà a recuperare i vecchi set di un GCC qualsiasi sperando che un giorno potranno fruttare qualcosa? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande? Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. TCG ed investimenti, un binomio immortale che da anni sta avvicinando a questo mondo sempre più curiosi ed appassionati. Sono infatti diversi a chiedermi nei direct di Instagram se converrebbe acquistare un set nello specifico, quale, a quanto e se crescerà nel tempo e soprattutto di che gioco di carte. Pokémon, One Piece, Fab e Magic sono quelli più richiesti ovviamente ma non manca chi crede che titoli minori come Creature of Exo o Battle of Shields possano dire la loro uscendo dal mercato underground iniziando a competere ad alti livelli. Certo è che di soluzioni ce ne sono infinite, ci sono i GCC oramai più che consolidati, c'è chi riprende le ormi di una propria opera che sia letteraria o cinematografica, chi invece deve ancora sgomitare per ricavarsi il proprio spazio e chi deve nascere portando il proprio Kickstarter a conoscenza del pubblico. Un concetto rimane comunque fisso, investire in questo mondo non è per principianti e fra poco capiremo meglio il perché. Nel video di oggi quindi andremo a rispondere alla domanda che tanto sorge nella mente di chi vuole avvicinarsi all'universo dei giochi di carte collezionabili per investimento, esplorando i punti salienti che devono essere presi necessariamente in considerazione e il motivo per cui c'è da stare molto attenti in un mondo che nasconde insidie dietro ogni angolo. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i punti fondamentali da comprendere per rispondere alla domanda. Conviene investire nei giochi di carte collezionabili? Andiamo a dargli un'occhiata. Conviene investire? Se la domanda è così diretta la risposta non può essere che sì, no. Ribadisco spesso a tutti coloro che mi pongono tale quesito che non sono fornito di una palla di cristallo che ribella il futuro. Magari chiedo ai signori di Fantasia Store, hai visto che tante le volte hanno qualche rimanenza di magazzino? E quindi non sono a conoscenza di cosa accadrà. Dopotutto chi si sarebbe mai aspettato che nel lontano 93 il Black Lotus sarebbe diventato una carta talmente iconica da valere centinaia di migliaia di dollari? Per non parlare dei mox, ma anche della città dei traditori di Exodus, carta che mi appartiene maggiormente perché ne ho maneggiata una quantità infinita. Quando venne pubblicata nel 98 veniva scambiata per le peggio carte comuni e ai giorni d'oggi si aggira sui 200 euro di minima per singola copia. Personalmente ci ho investito sui TCG al tempo e lo faccio tuttora e devo dire che non mi sono mai pentito dei fondi economici che ho stanziato per i giochi di carte collezionabili. È anche vero che sono oramai 30 anni che mi trovo dentro questo mondo e in questi tre decenni ho imparato a conoscere bene il mercato. La verità è che nessuno sa come può andare a finire, me compreso, ed ogni volta che qualcuno investe inconsapevolmente o consapevolmente si assume quello che si chiama rischio imprenditoriale, dipende dall'esperienza. Conoscere il mercato. Il rischio imprenditoriale è quel fattore che entra in gioco quando si effettua un qualsiasi investimento che sia aprire un negozio, ristrutturare e poi rivendere una casa o comprare azioni. Quando ci si assume tale rischio quindi c'è da considerare un punto importantissimo. Si è da soli e se qualcosa va male non si può dare la colpa agli altri. Eh ho capito Arconte ma se Cinciopallo mi ha detto di investire e io l'ho fatto e ho perso tutti i miei soldi la colpa è sua che mi ha consigliato male. Può anche essere ma chi ha investito i suoi risparmi perdendoli tutti senza verificare la fonte? È il solito discorso. Se vi dicono di buttarvi a fiume voi lo fareste? Ed è qui che arriviamo al secondo punto della giornata ovvero bisogna conoscere il mercato in cui si investe. Se volete spendere denaro per comprare una carta che vi piace ben venga ma la cosa deve finire là. Ho moltissime carte che esteticamente mi piacciono tantissimo e le tengo per me ma quando si parla di intavolare una trattativa per un elemento che poi dovrò rivendere in futuro eh le cose cambiano. Una carta può valere un euro tra due anni perché il proprio TCG è andato fuori produzione come 2000 perché continua a sfornare set ed avvicinare sempre un numero maggiore di appassionati. Ma chissà se un titolo sopravvivrà al tempo o meno? Nessuno. Bisogna assumersi quindi il rischio imprenditoriale del caso. Se poi la decisione è quella di buttarsi su titoli come Pokémon o Magic lì la situazione cambia ovviamente ma il più delle volte più il titolo è longevo più le barriere economiche a livello collezionistico si alzano. Una cosa che consiglio è quella di concentrarsi sempre su un singolo gioco iniziando a comprendere le dinamiche dei prezzi che lo regolano perché una carta vale più di un'altra, le diverse rarità appartenenti a quel GCC come rara, super rara, ultimate, ghost eccetera, come lavora la casa madre che lo produce e soprattutto la storia di quel gioco come ha fatto ad arrivare al punto dove si trova ora, se ci sono stati nel corso degli anni dei cali di interesse, perché e come ha fatto a tirarsi fuori il titolo da una situazione negativa. In più se conoscete qualcuno che ne sa più di voi non sentitevi in difetto e chiedete informazioni al riguardo per avere una panoramica quanto più vasta possibile sul mondo che vi interessa. Inoltre su internet troverete infiniti blog e discussioni che potranno chiarirvi molto le idee su alcune meccaniche che vi erano sconosciute. Insomma datevi da fare per assicurare il vostro investimento nel migliore dei modi. I TCG uso investimento non sono un paese per pigri. Quanto può costare? Il suo valore è? Mi stanno vendendo questo articolo, conviene a questo prezzo? E molte altre domande mi sono state poste negli ultimi anni da moltissimi iscritti al canale. Ora, per quanto mi riguarda potete chiedermi tutte le cose che volete inerenti a valutazioni varie. Rispondo a tempo debito e nel frattempo, mentre controllo i prezzi, resto aggiornato sul mercato. Ma d'altro canto mi viene da pensare, le persone che hanno chiesto il mio aiuto, come farebbero se all'improvviso partissi per un lungo viaggio alla ricerca di empori remoti e smettessi di rispondere? Nel lavoro che faccio, i diversi mentori che si sono susseguiti negli ultimi 12 anni erano d'accordo su un singolo punto in particolare. La pigrizia non ti porta a nessun risultato. Alcune volte mi sono ritrovato personalmente ad un bivio, chiedere a chi ne sapesse di più non ricevendo riscontro alcuno o muovermi di motore mio per trovare le risposte che cercavo. Il mondo dei TCG funziona allo stesso modo. Se non ricevete risposta, andate alla ricerca delle informazioni consultando i siti più accreditati per ottenere ciò che cercate. Perché vi sto dicendo questo? Perché a volte è meglio verificare di persona quel che si sta acquistando piuttosto che ascoltare un parere esterno che, per quanto esperto possa essere, non è esente da errori. Non sapete neanche quante volte avevo tra le mani un buon investimento ad un ottimo prezzo e mi è stato sconsigliato di procedere per vari motivi, scoprendo solo dopo che invece si trattava di un buon acquisto dato che la richiesta era al di sotto del prezzo minimo presente su Car Market. Non mi sono assunto il rischio imprenditoriale e ne ho pagato le conseguenze. E va bene così, fa parte del gioco e crea esperienza. Quindi concludendo, conviene investire nei TCG? Se la domanda è questa, la risposta è no. Investire non è un gioco e se partirete con l'intenzione di voler provare, ve lo dico senza mezzi termini, non incominciate. Se vorrete veramente darvi da fare in questo mondo, l'ottica dovrà cambiare e dovrete diventare più curiosi, trovare un mentore che potrà guidarvi o una community che vi supporterà, farvi esperienza nel campo, assumervi il rischio imprenditoriale ed essere consapevoli di ciò che si sta facendo. In un'unica parola, studiate. Gli investimenti purtroppo non ammettono ignoranza. Sia chiaro di concetti da trattare per quanto riguarda questa tematica ce ne sono un'infinità e non basterebbe una maratona live per snocciolare ogni punto nello specifico. Bisognerebbe affrontare ogni singola situazione economica di ogni singolo individuo, valutare l'obiettivo finale che si vuole raggiungere, il gioco al quale ci si vuole approcciare, prendere in esame le paure insite che bloccano o una persona nel voler iniziare a spendere denaro, far capire che nel 90-95, forse pure di più, per cento dei casi di CG rappresentano un investimento a lungo termine e mettere in conto, infine, che quello stesso investimento potrà non dare i frutti sperati. Mettiamoci anche le truffe, che sono sempre più frequenti dietro l'angolo, e il quadretto sarà completo. E a proposito di queste ultime che rappresentano un mondo a sé stante, se vi interesserà le tratteremo in un video dedicato. Per iniziare perciò a muovere i primi passi nel mondo del collezionismo, di step da affrontare ce ne saranno diversi e tutti più o meno obbligatori. Un'altra soluzione può essere il libro che ho pubblicato, Colleziono da Zero, che vi guiderà passo dopo passo per strutturare anche una strategia economica. Troverete il link dove acquistarlo in descrizione. Quindi forza e coraggio, se vorrete capitalizzare i vostri risparmi nei GCC, non vi resterà altro da fare che reperire tutto quello che di più prezioso potrete ottenere, ovvero le informazioni giuste, da utilizzare nel migliore dei modi così da farle fruttare a vostro favore. E voi avete mai investito nel mondo dei giochi di carte collezionabili? E com'è andata? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.